Sì, mi sentite? Sì. Dunque, io mi sono sentita a seminare molte volte da stamattina, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno ringraziato, ma insomma non sono io che mi hanno detto loro, e sono molto rietta di essere qui in questo tavolo per presentare due delle mie più cari, prima ieri, proprio lavoratrici, e adesso, senz'altro, sono loro che lavorano su Quattrocento Fiorentino, Toscano, non solo, e qui qui mi sento, io sono Pensione Armada Mugliani e sono, come vedete, tutti i capelli bianchi, sì, che la scaffetta passa, e passa dai passaggi, ma è da tempo, non c'è in tante mani, cosa di cui sono molto rietta, e ringrazio appunto queste più giovani studiose che si continuano a dedicarsi a questi studi che ci stanno a cuore. La prima è che si siederà qui perché vi illustrerà un problema relativo a una tavola sembrata e da ricostruire, di Cosimo Rosselli, con delle proposte e delle motivazioni che conosco perché ne abbia parlato, e mi sembrano molto interessanti e molto incidibili. Allora, Nicoletta Pons, ci parlerà di le sue nuove osservazioni su una tavola parlamentaria di Cosimo Rosselli.